ed eccoci all'ultimo aggiornamento di oggi con muoversi in toscana ancora mauro ciutini in studio code in uscita a firenze sud siamo in a1 provenendo da bologna ancora rallentamenti sempre in a1 tra calenzano e il bivio con la 1 variante traffico intenso sulla 11 tra firenze ovest e prato est in direzione pisa attenzione alla pioggia segnalata sulla firenze pisa livorno e sulla 12 la genova rosignano veniamo a lavori per la tranvia firenze linea 3 oggi e domani e chiusa via corridoni nel tratto piazza dalmazia via bini vediamo con il tempo previsto domani dal consorzio lama in toscana marcata in stabilità con precipitazioni sparse più insistenti in prossimità dei rilievi muoversi in toscana in collaborazione con regione toscana città metropolitana di firenze e comune di firenze buona serata domani grazie a tutti